Qualunque malattia tu abbia, qualunque problema tu abbia, lo Spirito Santo ora sta spezzando questa maledizione. Quando scende l'unzione, i demoni se ne vanno. Cari amici, spesso diciamo che soffriamo perché nel profondo dell'anima possiamo avere una sensazione di non essere accettati da Dio, non accettati da Lui. Per quale ragione non siamo stati accettati? Perché tutti noi siamo pieni di difetti, peccati, pensieri, desideri e motivazioni varie. Possiamo trovare tante ragioni per pensare che Dio non ci accetta così come siamo. Questo però è il nostro segreto. Con questi pensieri possiamo vivere tutta la vita e persino andare avanti nel nostro ministero. Ma non avremo tutta questa grande potenza di Dio nella nostra vita. A volte capita che vivi la tua vita e la potenza di Dio ti accompagna sempre e dappertutto. Volevo dire, miracoli, quelli veri. E questi miracoli accompagnano non soltanto il tuo ministero, ma tutta la tua vita, i tuoi interessi personali. Perché Dio è ovunque insieme ai Suoi miracoli. Questi miracoli sono ovunque. Poi, giusto perché tu lo sappia, dovrebbe essere sempre così. E te lo confesso, io personalmente vivo così. Vedo la manifestazione di questa incredibile potenza di Dio. E' incredibile come ogni volta Dio mi stupisca, sempre con i Suoi grandi miracoli. Mi sorprende per tutto ciò che non avevo nemmeno pregato, ma l'avevo solo sognato. Forse l'avevo solo sognato e non riguarda nemmeno il ministero. Ma gli interessi personali in nessun modo sono collegati al ministero stesso. Ma Dio si manifesta. E ti dirò di più. La ragione è sempre che esiste un segreto. Nel profondo dell'anima. Ben nascosto. Che Dio mi accetta così come sono. Proprio ora. Questo è un punto molto importante, direi anche fondamentale. Se guardiamo bene da questo, come da un seme, sta già nascendo un albero. Gli eventi stanno già accadendo. Si presentano delle circostanze. Non che tu faccia qualcosa, come prendere delle decisioni, piuttosto che spostarsi da qualche parte. Tu non puoi avere fede. Quella fede che sposta le montagne. La fede che apre davanti a te dei grandi miracoli di Dio. La fede che capovolge tutto il male. In bene, a tuo favore. Perché non mettiamo in atto questa fede? Se tu pensi che quel seme che tu hai dentro di te sia avvelenato, sia infetto. E pensi che Dio non può accettarlo così. Affinché non ti cambi, allora ti sbagli. Perché in realtà Dio ti accetta così come sei. Ora, cari amici, ora, cara Chiesa, ora Lui ti accetta così come sei. E quando Lui ti accetta, e tu comprendi che sei accettato da Dio, così come sei, proprio in quel momento, da quel seme che hai, comincia a crescere un frutto. E nella tua vita cominciano ad arrivare i cambiamenti in modo sopranaturale. Alleluia. Sono i risultati della potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Diamo gloria a Dio. Alcune persone sono convinte che lo Spirito Santo, nostro Signore, nostro Padre Celeste, si muovono solo nelle cose spirituali o dentro della Chiesa, e non capiscono e non comprendono la nostra vita. Che noi viviamo fuori dalla Chiesa, quello che noi affrontiamo ogni giorno. Cari amici, questa è solo un'illusione. A Dio Padre non sfugge proprio nulla. Lui conosce a fondo ogni persona. A volte, quando una persona commette un errore o fa qualcosa di sbagliato, commette un peccato, cosa fa la gente? Senza approfondire. Giudica subito questa persona e basta, non è così. Giudica dicendo, quest'uomo... Ha torto. Così inventano bugie e calugne su questa persona e la giudicano. Invece Dio, lo Spirito Santo, non fanno così. Loro cercano sempre e trovano il motivo per cui questa persona ha commesso dei determinati sbagli. Esiste un mare di ragioni. Per cui la persona potrebbe averlo fatto. O perché lo fa. A pensare bene. Lo stesso atto. Diciamo. Anche un peccato potrebbe avere dei presupposti completamente diversi. Mi state ascoltando? Per alcune persone, questo potrebbe essere un atto svergognato e sfacciato, con il quale questa persona ha davvero superato ogni limite. Un altro ha fatto la stessa cosa, ma la sua situazione è completamente diversa. C'era un presupposto completamente diverso. C'era qualcosa di particolare. Tutto era completamente differente. E lo Spirito Santo ci guarda dentro. Guarda dentro tutti i nostri peccati, i nostri problemi, i nostri errori. Lui scava in profondità, cari amici. Fa di tutto per aiutare una persona, per rendersi utile e tirarla fuori. Questo è il nostro Dio. Diamogli gloria per questo. Devo dirvi che questo momento mi rende particolarmente felice in Dio. Perché Dio non è come la gente. Le persone esprimono subito un giudizio, un verdetto. Ti marchiano inevitabilmente. Ora ascoltatemi. Lo Spirito Santo tiene conto di tutta la vostra vita. Prende in considerazione tutti i vostri problemi, le vostre debolezze. Prende in considerazione tutto, tutto ciò che è nella tua vita, senza tralasciare nulla. Lui ti accetta così come sei. Così come sei. Capita spesso, come ben sapete, quando qualcuno vi giudica e dice che è gran peccato, un peccato così grave. Per esempio, un uomo inizia a fumare. Così commette un peccato molto grave. Amici cari, un peccato è peggiore quando una persona è semplicemente ingrata. Avete sentito bene? Oppure quando qualcuno fa qualcosa per voi e voi credete che ciò vi sia semplicemente dovuto. Come in quella barzelletta, ve la ricordate? Quando un uomo esce ogni giorno e dà 5 dollari a un medicante. E così va avanti per molto tempo. E poi un giorno esce e dice «Senti, oggi non ho da darti 5 dollari». E l'altro gli risponde «Niente, non ti preoccupare, mi sarai debitore». Ecco, questo è stato, questo è stato molto più peccaminoso del fumo. Purtroppo la gente non lo riesce a capire. Quando una persona si permette di giudicare e criticare verso un altro ministro, colui che è il suo superiore, questi amici miei, sono fatti gravi. Dopo, naturalmente, il Signore cerca di capire, tira fuori una persona. Ma questo è un problema molto più serio di una sorta di peccato carnale. Quando uno è avido, cosicché, a causa dell'avidità propria, si aggrappa sempre di più alle sue finanze e lo fa nel momento in cui ci sono delle necessità nella Chiesa, il vero bisogno di andare avanti, resiste, ha trovato una ragione, si è giustificato, ma in realtà c'è avidità dietro tutto questo. Amici cari, è tutto nascosto, quasi invisibile. Ma ecco il problema, eccolo, un problema terribile e Dio cerca di capire ogni cosa, ma è sorprendente. Dio ci accetta tutti così come siamo e grazie a Lui che cambiamo sia dentro che fuori. Amen. Poi, sapete una cosa? Vi racconto questo. Quando il figlio al prodigo, nel capitolo 15 di Luca, se n'è andato, ha sperperato tutti i suoi beni in prostitute, poi è tornato dal padre, contando sul fatto che sarebbe stato accettato come servo. Il padre gli è corso incontro per baciarlo, gli ha dato dei vestiti, e ha fatto un banchetto in suo onore. Invece il fratello maggiore era molto arrabbiato, sconvolto. Era talmente arrabbiato che non è nemmeno entrato in casa. Perché è scritto che suo padre gli abbia parlato? Ma non è scritto che sia entrato in casa. Come mai? Perché gli dice mi sono impegnato a fare sempre qualcosa nella vita, ma tuo figlio, il prodigo, non ha fatto nulla. Ha solo sperperato il suo patrimonio, oppure hai ucciso un vitello per lui, ma non hai mai ucciso nemmeno un capretto per me. Questo è un punto di vista religioso. Dio Padre ci ama così tanto, amici, che anche se ci succede qualcosa, Lui ci aspetta, rimane in attesa. Voglio dire a tutti coloro che per qualsiasi ragione hanno lasciato la Chiesa, che il Padre sta aspettando loro. E appena fate un passo, il Padre non cammina, ma corre verso di voi. Poi il Padre celeste riesce a fare anche dieci di passi. E quando vi abbraccia, quando vi dice semplicemente ecco, tu sei mio figlio, allora incominciate a capire davvero quanto è grande l'amore di Dio. È grande. È illimitato. Ed è incondizionato. In questa lezione vorrei dirvi, e poi ci sarà una preghiera per la guarigione, una preghiera molto importante. Ma penso che voi dovreste saperlo già, che ci sono comunque delle ragioni per il rifiuto. Sapete, ci sono i motivi per quali a volte nella nostra mente entra il pensiero che noi non siamo accettati da Dio. E in questa lezione parleremo proprio di questo. Nella prossima lezione, invece, parleremo delle ragioni che ci danno una certezza assoluta di sapere che Dio Padre ci accetta. Quindi, ecco la prima ragione. Prendete nota. Il prezzo è l'autoperfezionamento. Prezzo è autoperfezionamento. Sapete cosa fanno in tanti? Confondono l'accettazione da parte di Dio con il successo nel proprio ministero con il prezzo che hanno pagato. si pensa, per esempio, che quando una persona durante il proprio ministero paga il prezzo, quando va avanti, quando ottiene successo, allora in quel momento Dio lo accetta e gli dà persino una sorta di fede. Ma succede che all'improvviso capita una sorta di crollo nel suo ministero, un fallimento. se non riesce a fare il suo compito, se non ha potuto pagare il prezzo per questo tempo, tutto questo può succedere. Forse, con il passare degli anni, lui avrà migliorato. Ma per ora è andata così. una persona spesso e volentieri confonde due concetti e li collega tra di loro, cioè il concetto di raggiungere il successo nel ministero, una sorta di automiglioramento e il concetto di accettazione di Dio, l'accettazione di Dio, di te, così come sei. E voglio dirvi di più. Molto spesso questo è il motivo principale per cui una persona pensa che Dio non lo accetti, perché non ha successo. non ha pagato il prezzo. Per esempio, non ha raggiunto alcuni obiettivi. Ascoltatemi con attenzione. Non confondete uno con l'altro. Questo deve essere un argomento separato, completamente separato nella vostra vita. Questo è il ministero. Questo è il prezzo. Questo è il miglioramento personale. Questo è il successo. questa è una cosa, ma l'accettazione da parte di Dio è completamente un'altra. Perché l'accettazione da parte di Dio non cambia affatto se hai avuto o meno successo nel ministero. Ma avete sentito bene? Voglio sentirlo da voi. Voglio sentirlo da voi. Date gloria a Dio perché questo è davvero un momento importante.